Finalmente, fatto, finalmente, fatto pulizia, c'è della casa, è un casino, è un casino. Serpente, posso andare a dormire? Ok, avvolto io. Ok, sono così stanco, serpente. Volei poter vedere come essere te solo per un giorno, no, solo per un giorno. Ok, ok. Buonanotte. Ti spengo la luce. Cicc. 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 Oh, amico. Mi fa male la schiena. Avvolto io, ho fame qui di colazione. Non mi sente. Avvolto io, ho fame fosse il cibo. Ehi, sto facendo sul cambio di corpo, non dormo sul cambio corpo, sul divano non io e... Oh, sì, proprio così. Grazie. Grazie a tutti